Grazie a tutti. Grazie a tutti. A te che ti ho detto, non di fare monaca, però è un mestiere che sta diventando questo dei vicini, perché se continuate a fare i vicini, a essere bravi e a sfruttare i vicini, e se non è più difficile, ma se la terra è più brava, se non vince, questo diventa un mestiere, perché noi abbiamo visto nel nostro comune che chi ha vinto sono quelli che normalmente partecipano a questo tipo di concorso, cioè quelli che imparano a fare i quiz. Lo lascio da una cosa se questa è la tecnica migliore del mezzo. Tra l'altro c'è una valutazione. Chi ci può dare domande o dire poi questo? Tu invece che ci riesci... No, per me questa è la vostra fila, anzi, grazie, la vostra c'è il comando per guidare questa opportunità. Io voglio ringraziare l'impegno di anno che è stato del nostro comando, diciamo chi di più chi di meno hanno svolto un sedizio eccellente, per tal cosa però è una proposta anche di qualche attestato di lusione del servizio, e niente, sono rimasto potente un'esperienza, sono rimasto potente un'attività del svolto, complimenti, un augurio per il futuro, spero che sia veramente un altro bilancio per il futuro, che vi possa anche servire proprio nella risa, sia come prospettiva di lavoro, sia proprio un'esperienza personale, perché poi lavorare in un comando di un comando, non è una cosa che tutti i giorni. Contento anche perché ha fatto le contraddizioni al vice sindaco e di meno.